Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura le ultime decisioni del governo. A partire da domani il coprifuoco sarà posticipato alle 23. Spazio poi alla cronaca con l'operazione dei carabinieri per contrastare l'emergenza terra dei fuochi. Scarichi abusivi in 29 ditte. A Dercolano invece la guardia di finanza ha rinvenuto un deposito di abiti usati non sanificati. In chiusura disagi sul fronte lavori pubblici nella città di Torre del Greco, i microfoni di TV City, la denuncia di Salvatore Quirino e Luca Alini di Fratelli d'Italia. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Via libera a matrimoni, ristoranti, centri commerciali e coprifuoco ritardato. La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l'aggiornamento delle misure in vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma e le riaperture, alla luce del miglioramento dei dati epidemiologici. Ecco nel dettaglio le date previste al nuovo decreto legge approvato in serata dal Consiglio dei Ministri. Da domani scatta il posticipo del coprifuoco, che passa dalle 22 alle 23. Dal 22 maggio riaprono i centri commerciali, i mercati, le gallerie e i parchi commerciali nel fine settimana e riaprono anche gli impianti di risalita nelle località di montagna, che erano chiusi dall'estate scorsa. Dal 24 maggio riaprono le palestre, che in base al decreto del 22 aprile sarebbero dovute ripartire il primo giugno. Il primo giugno invece tocca a bar e ristoranti, che non hanno spazi all'aperto. Si potrà prendere il caffè al bancone del bar o pranzare e cenare fuori anche nei locali al chiuso, cosa quest'ultima che non era prevista dal decreto in vigore. Possibile inoltre tornare ad assistere ad una competizione sportiva all'aperto, con una capienza non superiore al 25% di quella consentita all'impianto e comunque non superiore alle 1000 persone. Il 7 giugno il coprifuoco viene posticipato di un'altra ora, si deve rientrare a casa entro la mezzanotte. Dal 15 giugno tornano le feste di matrimonio, ma per partecipare servirà il Green Pass, vale a dire il certificato di avvenuta vaccinazione e di guarigione, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Sarà il CTS a definire il numero massimo di partecipanti per gli eventi all'aperto e per quelli al chiuso. Ripartono anche le fiere con la presenza di pubblico, i parchi tematici, che in base al vecchio decreto dovevano riaprire il 1 luglio, i convegni e i congressi. Dal 21 giugno sparisce definitivamente il coprifuoco. Il 1 luglio, gli ultimi a ripartire in base alle scelte fatte, sono le piscine al chiuso, i centri termali, le sale giochi, bingo e casino, i centri ricreativi e sociali, i corsi di formazione pubblici e privati. Sarà anche questa la data in cui si potrà tornare ad assistere ad una competizione sportiva al chiuso. La capienza sarà limitata al 25% del totale e comunque non potranno esserci più di 500 spettatori. Il 1 luglio è anche la data di ripartenza dei congressi, ma si sta ragionando, anticipato dal 15 giugno, con il Green Pass. Nel corso degli ultimi mesi è stata intrapresa dai Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica una complessa campagna di controlli tesi a reprimere fenomeni di abbandono e combustione illecita di rifiuti nei territori tristemente noti come terra dei fuochi. In una prima fase è stato effettuato uno studio di analisi, finalizzato a censire le aree maggiormente utilizzate per l'abbandono e la combustione dei rifiuti e successivamente si è proceduto ad analizzare la particolare tipologia di rifiuti, oggetto di combustione. Da tale quadro si è poi risalita alle filiere produttive da cui scaturiscono particolari tipologie di scarti di produzione, pianificandone controlli a tappito. La prima attenzione è stata dedicata alla filiera del Pellame e del Tessile, i cui primi iniziali controlli hanno consentito non solo di ravvisare numerose violazioni in materia di smaltimento degli scarti di lavorazione, ma soprattutto hanno condotto ad individuare ulteriori aziende operanti in modo illegale e abusivo nella stessa filiera. Proprio in virtù di tali primi positivi riscontri, nel mese di settembre e di ottobre, lo scorso anno e da ultimo nei giorni scorsi, nei comuni di Napoli, Casavatore, Giuliano in Campania, Sant'Ammaro e Solofra, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano e Palma Campania, i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli, Nucle Operativi Ecologici di Napoli, Caserta, Salerno, Bari e Potenza, coaduivati dal personale del gruppo carabinieri, spettorato del lavoro di Napoli e dai militari dei comandi provinciali di Napoli e Caserta, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati ad accertare le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione dell'industria tessili, avendo appurato che proprio gli scarti tessili rappresentano una delle tipologie di rifiuti più spesso dati alle fiamme nelle aree maggiormente interessate dalla combustione illicita di rifiuti. Nello specifico, circa 60 militari hanno sottoposto a verifica numerosi opifici industriali nella provincia di Napoli e Caserta. All'esito delle operazioni compiute, i carabinieri hanno deferito all'autorità giudiziaria 29 persone, titolari di altrettante ditte, ritenuti responsabili di smaltimento illicito di rifiuti e scarico illicito di acqua e reflui industriali, sottoponendo a sequestro impianti e macchinari utilizzati per l'esercizio delle illicite attività di concia e lavorazione del pellame e dei tessuti. Nello stesso contesto, i carabinieri del NOE di Napoli e del Nucle Spettorato del Lavoro dello stesso capoluogo hanno disposto la sospensione dell'attività produttiva di 5 opifici della provincia di Napoli, in quanto al momento del sopralluogo verificavano l'abusivo stoccaggio di ingenti quantitativi di scarti di lavorazione, nessuno dei quali riportato sui registri previsti per legge e la presenza di 39 operai in nero, su un totale di 60 occupati. Nel corso dei controlli è stata acquisita cospicua documentazione al vaglio degli investigatori che consente di risalire ad ulteriori filieri illegali. I riscontri ottenuti hanno permesso di confermare come la problematica dello smaltimento illecito dei rifiuti a mezzo di combustione degli stessi sia dovuta principalmente agli elevati oneri da sostenere per il regolare smaltimento dei rifiuti, all'esistenza di attività che operano con mano d'opera in nero e alla tendenza di talune aziende di nascondere al fisco la reale operatività, limitando la fatturazione attraverso la produzione in nero ed evitando dunque i previsti oneri di tassazione. La compagnia della Guardia di Finanza di Portici ha sottoposto a sequestro nel comune di Ercolano un'area di 1600 metri quadri e un deposito utilizzato come luogo di stoccaggio contenente oltre 400 tonnellate di indumenti usati non sanificati e scarti di lavorazione. La scoperta dei finanzieri è avvenuta durante un controllo presso un opificio utilizzato come attività di commercio all'ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di igienizzazione e sanificazione. All'interno sono state individuate anche due tonnellate di materiale plastico e varie attrezzature da lavoro. Scoperti altresì 18 lavoratori in nero, quattro dei quali per settori di reddito di cittadinanza, nei cui confronti sono state avviate, d'intesa con l'Inps, le procedure per la sospensione del beneficio. Denunciati due responsabili, un 50enne e un 49enne di Ercolano, per aver allestito il sito senza le autorizzazioni previste dal testo unico in materia ambientale e segnalata l'attività imprenditoriale alla Direzione Territoriale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi del testo unico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Ancora disagi per i lavori pubblici a Torre del Greco, sono continui i ritardi e manca soprattutto una pianificazione che possa chiarire ai cittadini per quanto potrebbe durare un malfunzionamento o un disagio per quanto riguarda lo spostamento e la viabilità. Qual è la denuncia ai Fratelli d'Italia? I Fratelli d'Italia, come sempre, è dalla parte delle persone che in questo momento non vedono difesi quelli che sono i propri diritti. I diritti alla mobilità, soprattutto quella sostenibile, con la fruizione di una stazione della Circonvesuviana, diritti delle fasce d'età più piccole, quali i bimbi che vanno a scuola, diritti dei disabili e diritti soprattutto di chi è residente in quella zona che sta patendo in questi giorni notevoli disagi. Emblematico l'esempio di Via del Santuario, soprattutto nelle ultime settimane, anzi negli ultimi mesi. Via del Santuario, zona Leopardi, una periferia della città in questo momento abbandonata a se stessa. Non sappiamo che pianificazione è stata attuata, non sappiamo i tempi di consegna del cantiere. Avremmo ipotizzato magari una chiusura a carreggiate alternate, avremmo ipotizzato magari la realizzazione di sottoservizi al di sotto dei marciapiedi, non al centro della carreggiata. Quindi in questo momento noi siamo qui, oltre che per denunciare un disservizio, per proporre delle soluzioni alternative. Ma oramai i tempi, voglio dire, sono lunghissimi. Attendiamo a breve un impegno formale dell'amministrazione per una imminente riapertura. Perché c'è questa inerzia, questi ritardi, questa mancanza di programmazione? Io penso che sia dettata da un'incapacità politica di pianificazione e un'incapacità tecnica del settore amministrativo che vada a controllare quelli che sono i tempi di ogni singolo cantiere. Fratelli d'Italia raccoglie spesso le denunce della popolazione, cerca di essere vicino ai cittadini. La questione del cantiere di Leopardi, che praticamente non ha mai fine, è una questione molto importante, perché oltre che per i residenti della zona, va ad implicare anche altre zone che sono limitrofe. Infatti quella era una strada di passaggio, anche per persone che vengono da comuni vicini, tipo Terzigno, Bosco, che venendo dalla panoramica, scendono o per via del santuario, oppure per la bretella autostradale di Torra Annunziata. Una volta chiuso questo sbocco, è chiusa anche via Viuli, perché è senso unico solo a salire, chi viene da sopra è costretto a passare per la zona di Cappella degli Orefici, sarebbe zona Camaldoli, provocando una congestione di traffico esagerato. Inoltre anche i mezzi pesanti devono passare di là, ed essendo che le strade non sono attrezzate per ricevere mezzi di quelle dimensioni, si va in difficoltà. Noi abbiamo segnalato più volte questa cosa, però purtroppo al momento non abbiamo avuto risposte. Parlando invece della situazione politica, Ettore del Greco, dopo la nascita e la nuova giunta, qual è la posizione di Fratelli d'Italia? Allora, Fratelli d'Italia è rimasta fedelmente all'opposizione, anche se la nostra rappresentante non ha preso mai una posizione netta e chiara. E quindi siamo rimasti praticamente l'unica voce vera di opposizione in questa città. Noi cerchiamo di stare sempre vicino ai cittadini, anche se purtroppo con l'emergenza Covid non è semplice, però almeno attraverso i social, le denunce, sui giornali cerchiamo di esserci. Cosa comporta questa assenza di opposizione istituzionale? L'assenza di opposizione prima di tutto provoca una confusione totale, perché il cittadino non riesce a capire bene chi sta in maggioranza e chi sta in opposizione. Molte volte questi ruoli sono abbastanza fluidi. Questa è quindi una cosa molto difficoltosa per i cittadini. E inoltre vedo che praticamente prima c'era qualcuno dell'opposizione che attaccava questa giunta, ma purtroppo al momento questa cosa non si sta verificando. E quindi molte cose riescono a farle senza problemi. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione all'indirizzo email a redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.